Ciao a tutti, queste sono le orchidee coordinato, ce n'è anche un'altra se vedete che ho già spacchettato tutto, è stato tutto in disordine è perché avevo iniziato il video da quando stavano nella scatola soltanto che non mi sono accorto che la telecamera si era spenta e quindi ho dovuto rifare tutto da capo le orchidee vengono da... aspettate vi faccio vedere la scatola vabbè qui c'è la delega vediamo tutto e vediamo perché c'era scritto ecco qui la veresina orchidee la prima orchidea che ho già scartato adesso ve la mostro eccola sta nel cestello come potete vedere nel cestello specifico per orchidee ed è una sanafea di pozzodi capicus una cosa del genere non capisco come... come non... la scrittura da grandi non la so leggere per niente la chiamo scrittura da grandi commentate con hashtag scrittura da grandi in questo unboxing il primo sul canale vorrei salutare un mio amico di nome... cioè... che come nome si chiama Daniele ciao Daniele spero che quando avete iniziato a vedere il video la telecamera era così da questo verso se no adesso vedete il video capovolto mi ha regalato anche del concime 20 20 20 del fertilizzante scusatemi eccolo questa polverina qua adesso io procedo con lo scapello spacchettare un'altra orchidea e poi ve la farò vedere che cosa bellissimissimissima ecco qui la masdevaglia ibrida molto bella se vedete qualche foglia piegata vabbè è stata tre giorni impacchettata poi si rimettono tutto a posto ve la faccio vedere una masdevaglia ibrida il genere non lo so dice soltanto che è ibrida sul foglietto sul cartello di vendita mi piace un sacco davvero molto molto bella ah poi mi sono dimenticato di dirvi una cosa ho acquistato un'altra falenopsis sfiorita perché ormai ho le falenopsis solo sfiorite le acquisto solo sfiorite qua vabbè c'è la stanopea adesso si può aggiungere la masdevaglia alla mia correczione wow iniziamo con la prossima orchidea mi sono giusto che questo è il catasetum e questo è il bulbofillum scrivetevi vi do dieci secondi per scriverlo se questo è il catasetum o se questo se o se questo oppure se questo è il bulbofillum e se questo è il catasetum secondo me è catasetum e bulbofillum mettete hashtag si per dire che questo è il catasetum hashtag no per dire che questo non è il catasetum inizio a spacchettare adesso spacchetterò davanti a voi così vediamo potrei anche imbrogliare che ne sapete voi se io non imbroglio poi pulirò tutto forse posizioniamo bene la telecamera cioè che in giro è un telefono però fate finta che è una telecamera oddio ecco si vede bene? vediamo aspetta tiriamo un altro pochino così se cade il telefono oggi muoio sicuro quella sfiga cioè non è sfiga forse una perché c'è delle sfide allora ora sta un po' di buio non scherzo quindi hashtag si per dire che è catasetum hashtag no per dire che è bulbufillum oh chissà chi ha vinto chi ha detto che è un catasetum cioè chi ha detto che è un bulbufillum chi ha detto che è un bulbufillum è un cerbero un cerbero è leggermente illuminato però da dettagli scusami i grattolotti si vede che ha tete adesso dopo il video mi spero un po' d'acqua dopo il video la mia voce io vado a morire io vado a morire seriamente io sto per andare a morire per andarmi a uccidere cioè è bellissimo ma perché ha sete se no c'è una piantola bellissima guardatelo pure un secondo pseudobulbo due pseudobulbi no è bellissimo adesso tolgo questo e poi vi faccio vedere vediamo la varietà catasetum tenia orange oh è fiori arancioni poi tutte le varietà ve le scrivo bene nei commenti perché la pronuncia sempre potrebbe variare per capire cose che non sono prima ormai sono quattro video che faccio e quattro video che mi si spegne e veramente sono due volte che mi si spende la telecamera non mi ricordo se questa volta se questo video l'ho detto saluto il mio amico Daniele che mi starà guardando sicuramente siete andati a vedere il video che è uscito ieri? se non siete andati a vederlo andate a vederlo adesso solo che per eliminare il foglio ci metterò un pochino di ore giusto qualche uretta vabbè facciamo così questo sta qui devo aspettare voi non potete aspettare quindi un minuto in blocco qui in mezzo c'è la montagna montagnosa e adesso qui dovrebbe esserci il bulbufillum sempre se non ho sbagliato a ordinare qui intravedo già qualche cosa verde e ci vediamo più tardi ciao ops sì vabbè devo rifare tutto ciao il famoso bulbufillum dentatum è diventato dentiforum perché si chiama dentiforum io lo chiamavo dentatum vabbè già ho commesso il primo omicidio stavo spacchettando il tutto e mi sono accorto che qui manca una parte del puzzle o l'avrò staccata io o già si era staccata nella spedizione però dal colore sembra che si era staccato nella spedizione cioè ha tanti pseudobulbi rispetto al lobby ne ha molti di più vedete alcuni sono già pendenti qua altre nuove crescite adesso vi faccio vedere tutte le orchidee bulbufillum dentiforum masdevalia ibrida katasetu tembram orange con due pseudobulbi spatofillum o una cosa del genere stanafea di poff non è pozzi adesso credevo di pozzi Giancarlo dicevo ma no non credo però mi sembra che è una zeta proprio però non c'è scritto Giancarlo camplico però possibile vabbè quando riesco a decifrarlo ve lo dirò il detto è sempre la falenopsis faccio pubblicità un po' qua all'azienda no dai scherzo ok l'ultima cosa che faccio vedere nel video e poi lo chiudo è il mio omicidio vabbè ciao a tutti questo sono io prima che si infuoca la telecamera ecco spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina neanche un pollicione in giù commentate e voglio intanto sapere chi è convinto che questo era il bubufillum e questo il catasetum che in teoria è il contrario però dettagli e ciao 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 ciao